SIGNORI BENVENUTE E BENTROTE IN QUESTO FANTASTICO NUO EPISODO DI RAGIO MA COSA SU ROMBOSCHIEGE Oggi ragazzi, oh è lololololol, giocatore più aggressivo, secondo me, su console Volevi lasciare un commento e un'iscrizione e andiamoci a vedere sta gradur Ovviamente prima di iniziare vi ricordo che faccio live ogni giorno su Twitch e YouTube dalle 14, dalle 15, dalle 15 in poi Tranne domenica, inoltre vi ricordo che faccio coaching privato, se volete farvi cogliere domenico me in privato Mi iscrivete su Instagram che vi do tutte le info, inoltre vi ricordo che creo mappe su Fortnite Quindi se vi piace Fortnite le mo vite E nella modalità creativa, scrivete raise me nel certo e vi appaiono tutte le mie mappe E ora, let's go, combo, lololololol. Allora ragazzi, lui gioca da PS5 È una bestia, fa sempre le top champion in the world E ha non rinculo palestemente Ed è aggressivo da fare schifo Questa è la sua biografia e gli piacciono i gatti Così al cazzo Certo, vedete? Vedete ragazzi? Quale cazzo è il problema? Eh, questo è il problema, ve lo dico io Lui ha problemi molto, molto profondi, ok? Ora rompe la finestra Se ne fa un altro Sempre in testa, ovviamente E la testa è quella comunque Minchia, la shotava Se ne fa un altro Ah, lui è convinto che Esca da lì Ma c'è perché c'è il defuser fuori? Non lo so, eh Non è così convinto Allora, o sta parlando con i suoi compagni E noi non lo vediamo Cioè non lo sentiamo Magari tramite le call Così? Vediamo che fa ragazzi È un pazzo assassino Secondo me sì Allora, ho già un culo assurdo col tempismo Ma secondo me sì, ragazzi Eh, si fa collare dai compagni Mi sa perché Minchia Cioè fare Lì ragazzi è giocare con la fortuna Per esempio Cazzo No, sta, 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 sta Pokéball non l'ho capito Vedi che costano i Pokéball Magari era anche un Ultra Ball Una Master Ball Cioè Capito tutto però C'è un senso Vai che c'è l'economia del mondo Garage Cazzo fa usare sta mia traietta ragazzi Così bene Pazzo assassino Vabbè che non ci gioco mai Con questa metaglietta Quindi non so Però Da lontano È difficilotta Da tenere Invece lui Non gliene frega un cazzo Pallesemente ragazzi Il rinculo Per lui Che cos'è? Non so neanche Se sappia Dell'esistenza Del rinculo Su questo gioco Magari L'hanno accennato Eccolo Con la mitica cam Cioè ragazzi Lo ha devastato Palesemente Devastato All'Aki Per vigile Un po' Un po' All'Aki Lo è stato Allora Con Juggal Potrebbe usare l'abilità Cazzo c'è l'abilità Neanche a uso Che cazzo Lo sai a fare Juggal Tasci tua Ma usa l'abilità Mi spiegate Perché non usa l'abilità Sono Sono Interdetto Cioè Ma potrebbe Ma usa l'abilità Ma perché non la usi Ma sapresti Dove stanno Ma mi scusi Ma io non capisco Ragazzi ma perché Ma 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 Povara Povara Non ho nulla da dire Se non Perché All'Aki comunque per Maverick Eh perché Però cogliene il problema Non si è messo Dai Glamour Dai fratello Ma quella che cazzo copriva Che copriva veramente di merda Cioè il suo obiettivo era coprirla Dai C4 Bello easy Bel C4 Ecco il C4 Eccolo C'è che l'ha visto Lo sta seguendo Poverino Allora ragazzi Quella finestra Per far spawn kill E' carina Poi ovviamente Però devi sparare Non spari Non spari fratello Così lui entra Così non gliene frega Un cazzo della vita Lui è il fuoco Che gli è parte Non so sinceramente ragazzi Che cazzo di rank Lui stia giocando Perché io vi ripeto Sempre quella cosa Che Ne vediamo le clip Ok Ma noi non sappiamo Lui è champion Ovviamente Ma noi non sappiamo Con che account sta giocando E in che rank Lobby Sta giocando Eh Perché Potrebbero essere Tutti champion Tutti rame Eh Noi che cazzo Ne sappiamo Signori Eh eh Spesso neanche So se so Classificato No Immaginate un po' Ma non che me ne frega Un cazzo Ragazzi Comunque ragazzi So video intrattenimento Sti cazzi Eh Ok Certo Qualcosa mi fa intuire Che sono un po' stronzi Perché se tu non mi rinforzi Quel minchia di muro Capisci un attimo Capisci un attimo Che io qualche dubbio Sul rank Me lo faccio Poi che dici Perché quel muro Soprattutto a destra Si rinforza Perché a destra Era soft E gli altri due no Me lo sto domandando Che minchia Gli strattera Mi chiedo io Or dunque Ok Qui è proprio nel chill Ma si Allora O c'hai gli ultrasensi O ti collano le cose Perché non è possibile Frate C'è Ma come cazzo Fai a saperlo Non che c'è una precisione Ragazzi C'è all'arma Raga All'arma ferma Raga Non c'ha rinculo Sull'arma di Ashe Io sono scioccato Ma scusami Ma se tu le lanci 17 palline Sempre nello stesso punto Vedi che non era neanche stunnato Ma come cazzo Le lanci le palline Ragazzi Bravissimo Però gioca male Ai pokemon Io farei un attimo Un training Di lancio pokeball Perché Non ci siamo C'è Ne ha lanciate 4 Sullo stesso punto Infatti Quello non era per niente Strunnato Era proprio rincoglionito Diversi Non c'è il C4 L'ho controllato quello Bravo Qui raga Lui non ha rinculo Ve lo dico Vi ripeto Che Il rinculo Stiamo giocando a rainbow Lui mi sa che sta giocando a code Invece No ma neanche Neanche Peggio di code Ditemi un gioco Dove non c'è per niente Il rinculo Sta giocando a quello Oh yeah Mi sono fissato Con sta canzone Allai Per il tipo Però a volte Sapete che mi sembrano Proprio rincoglioniti Cioè tu ti fai Quello è un pene Comunque Tu ti fai Un micro pene Quindi il mio Tu ti fai Quella Parte là Da quella finestra Rotta Perché era rotta Però non Brolli E non senti un cazzo Allora O tua nonna Ti ha fottuto L'amplifon Quindi sei in carenza Quello comunque è un pene Vedi come Castle Castle Lui si diverte così Lui Lui si diverte Lui fa Papapapapapapapapa Cosa Fra 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 È morto È morto Non si rialza Cioè almeno Si potrebbe rialzare Ma Da una farfalla Cioè magari Sei trasladato il corpo A volte fa destra-sinistra A volte impazzisce A volte è umano Ci fa capire che Sbaglia anche lui Silenzio Cazzo sono quei buchi Ma voi capite perché io ho dei dubbi Su che cazzo dirai anche lui No ragazzi Ma voi capite Ma voi capite Che cazzo Oh my god Perché LOL Ma come cazzo Ma ti sei fatto Ma sei fatto con la doppia Ah lui si è fatto con la doppia Infatti mi sembrava stamattina Ma come cazzo ho fatto uccidere lui Madonna ragazzi C'è Mamma mia C'è Li ha devastati Li ha palesemente Devastati Comunque Ma è fattibile avere così tanto Non rinculo ragazzi C'è ma come cazzo fanno C'è Io capisco avere Il rinculo comunque Degli dei Ok Ma Cristo Dio Non ne ha Su Twitch l'ho visto Una minima Salita eh Minchia ma sulle altre Christopher Nolan Io non capisco Devastante ragazzi Ma soprattutto Ti giuro Ragazzi il rinculo che c'ha su Ash Mi ha scioccato Mi ha palesemente scioccato Vi giuro C'è Fermissima l'arma su Ash Io Che poi Ash Non è che c'ha Tutto sto onore in culo Cioè Diceva L'arma di Lesion Eh quindi Ci sta No Completamente Che poi è Lesion O lesion In inglese Perché di Lesion Solo che è sbagliato Secondo me E lui mi cambia Il video So E il fuego Ok ragazzi Che frame Ci siamo fermati In un bellissimo frame Eh Eh Ragazzini Eh Guardate che bel frame Ma questo in un altro episodio Che c'è Che c'è letà Gessis Su Grazie